Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano parliamo del fronte comune fatto dai quattro presidenti di provincia abruzzesi contro i tagli ulteriori imposti dalla legge di stabilità. I quattro presidenti oggi a Pescara hanno chiesto l'intervento dei parlamentari abruzzesi per evitare la paralisi di competenze altrimenti fondamentali come strade, scuole e sicurezza. Vediamo. Una spasmodica attesa, quella relativa all'approvazione della legge di stabilità 2016, resa ancora più tesa dopo gli annunciati e ulteriori tagli alla cosa pubblica. Tra gli enti ad accusare di più il colpo ci sono le province già declassate a secondo livello che mantengono però competenze che richiedono spese di gestione. Ed ecco allora il loro accorato invito verso i parlamentari abruzzesi. Intanto dopo il decreto antilocale del mese di agosto noi col governo avevamo inteso intavolare appunto un ragionamento tecnico che consentisse alle province riformate con la del Rio di arrivare a gestire gli anni successivi quindi al 2015, vale a dire il 2016 e ulteriori. Da lì abbiamo incontrato diverse volte i vari ministri, i vari sottosegretari. Ora siamo al punto che il governo deve recepire le indicazioni che abbiamo richiesto senza le quali noi non potremo fare il bilancio 2016 e quindi questo sarebbe l'ultimo anno ufficialmente utile per gestire le risorse impegnate nel bilancio 2015. È un'iniziativa di carattere nazionale. In realtà per quello che riguarda la regione le quattro province sono concordi sul dire che le più grandi necessità e debolezze sono? Intanto noi siamo stati bravissimi in un anno di riforma. Le necessità e debolezze sono assolutamente quella di avere un bilancio sul quale pianificare interventi sulla viabilità e sulle scuole in questo momento. E allora i nostri parlamentari non possono non sapere questo. Lo sanno e lo sanno come lo sanno in tanti e pertanto facessero il loro dovere fino in fondo facendo capire al presidente Renzi che le province riformate avranno sostegni veri con la finanziaria e quindi da lì fare poi il discorso sulla riforma definitiva che sarebbe la gestione delle nuove province sotto forma di area vasta. Ma su questo nessuno ha nulla da obiettare. Prosegue lo sconto tra chi è favorevole e chi è contrario ai progetti di petrolizzazione della costa adriatica. Dibattito riacceso dal convegno organizzato oggi a Pescara da Confindustria e Asso Mineraria proprio sul tema della ricerca e estrazione di idrocarburi. In questa occasione le associazioni ambientaliste sono tornate a contestare il progetto Ombrina Mare. Ancora scontro sulla ricerca di idrocarburi sulla costa adriatica. Da una parte le associazioni ambientaliste e gli operatori turistici della costa abruzzese che ribadiscono la loro ferma opposizione ad ogni tentativo di conciliazione territoriale sul progetto Ombrina. Qui ormai non si tratta più di fare il grido d'allarme e di arrivare a una conclusione di questa storia e di capire bene se noi dobbiamo diventare una regione petrolifera oppure una regione che ha il suo introito economico maggiore dal turismo di qualità, dall'agricoltura dei prodotti. Ribadiamo che sono i settori che stanno mantenendo il PIL regionale. Ecco qui dobbiamo parlare di questi aspetti a livello di regione. I Trentini sono orgogliosi e tengono a cura il proprio territorio. Noi abruzzesi dobbiamo fare la stessa cosa, far sentire a chi ci visita ciò che offriamo come una cosa autentica. I prodotti tipici, le eccezionali produzioni di qualità, ma naturalmente l'ambiente, i parchi nazionali ne abbiamo tre, uno nascente che è il quattro, proprio il quarto di fronte a questa raffineria che è proprio la negazione assoluta del buonsenso e di qualsiasi futuro proponibile per le generazioni che stanno arrivando e per le generazioni che operano adesso nel presente. Dall'altra Confindustria e Asso Mineraria che sostengono vantaggioso sviluppare l'industria petrolifera. Noi riteniamo che l'industria degli idrocarburi in Abruzzo abbia una storia e una presenza talmente importante da non poter essere ignorata. Abbiamo realizzato uno studio attraverso il Centro Studierie di Bologna che analizza la storia, la cultura, l'industria, le prospettive, ahimè anche lo stato di crisi che attraversa queste industrie legato al fatto che ci siano tantissimi progetti purtroppo fermi per tutta una serie di ragioni amministrative e di opposizione politica e delle varie organizzazioni ambientaliste. Noi riteniamo che questi progetti possano essere realizzati nel pieno rispetto delle norme di legge, delle regole di tutela dell'ambiente e della salute di chi ci lavora e dei cittadini, come è stato finora e come sarà anche in futuro. Restiamo in argomento. Oggi è stato un incontro proficuo e importante per scongiurare la petrolizzazione del mare Adriatico. Auspichiamo ora un ravvedimento operoso da parte del Governo. L'ha detto il Vice Presidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, a margine dell'incontro che si è svolto a Roma dei delegati delle regioni che hanno promosso il referendum contro le trivelle in Adriatico, su cui è arrivato il primo via libera da parte della Corte di Cassazione. Sempre in tema registriamo anche le dichiarazioni del Sottosegretario della Giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Pur non soddisfatti, apprendiamo l'abbinamento dell'istanza cautelare a quella di merito, fissata per il 22 giugno prossimo per la decisione finale dei giudici del Tar Lazio. Fino ad allora non molleremo la presa, ci apprestiamo a ricorrere al Tar sia contro l'esito conclusivo della conferenza dei servizi e sia contro il probabilmente emendando decreto concessorio. Così appunto in una nota il Sottosegretario Mario Mazzocca che commenta l'esito dell'udienza svoltasi questa mattina a Roma di fronte ai giudici del Tar del Lazio dove i legali dell'avvocatura regionale hanno presentato le richieste relative al ricorso presentato a fine ottobre dalla Regione Abruzzo per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente relativo allo sviluppo del gecimento ombrina mare. Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop a procedere sul progetto di realizzazione del metanodotto Larino Chieti che dovrà essere discusso il prossimo 15 di dicembre in commissione via tra le contestazioni al progetto e la vicinanza a numerosi centri abitati. Vediamo. Una più attenta e scrupolosa analisi delle conseguenze che si avrebbero con la realizzazione del metanodotto Larino Chieti a chiederle il Movimento 5 Stelle che riporta all'attenzione il caso dell'esplosione avvenuta a Mutignano di Pineto nel marzo scorso a causa del crollo di un traliccio della corrente e del cedimento di una condotta. Nel progetto che riguarda Larino Chieti ad essere interessate sarebbero numerosi centri abitati e la linea in gran parte sarebbe parallela all'elettrodotto Villanova-Gissi. Più certezza e più prudenza. Il nostro non è un no to cure, è una maggiore presa di coscienza del fatto che il tracciato del metanodotto, benché rispetti la legge per carità, ha in alcuni punti delle criticità, zone a rischio idrogeologico, in alcuni punti coincide il tracciato del metanodotto con quello dell'elettrodotto Terna e sfiora dei centri abitati densamente popolosi. Per cui quello che chiediamo è anche alla luce del Comitato Via che ci sarà il prossimo 15 dicembre una maggiore prudenza sia da parte del Comitato sia da parte della Regione e quindi un impegno da parte del Presidente della Giunta d'Alfonso di maggiore tutela nei confronti del territorio e dei cittadini. Le osservazioni mosse dal Movimento 5 Stelle non sono materia nuova. Più e più volte sono state denunciate tra le incompatibilità del progetto ma ora la preoccupazione è quella del 15 dicembre data in cui verrà discusso il progetto dal Comitato Via. Sono state prodotte osservazioni dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Bucchianico, dai comuni, vari comuni che poi sono elencati nel comunicato che abbiamo diramato, da associazioni come il Forum H2O e il Comitato No Stoccaggio del Gas, per cui insomma sono situazioni assolutamente note e quello che chiediamo è una valutazione un po' più approfondita. Su proposta dell'assessore regionale al social housing donato Di Matteo, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione tra i comuni del Fondo Nazionale annualità 2015 per il sostegno economico al pagamento degli affitti. Il fondo complessivo verrà assegnato con le risorse disponibili fra i comuni in funzione delle richieste pervenute sulla base degli avvisi pubblici comunali in forma direttamente proporzionale per provincia, tenendo conto anche delle somme residue nelle casse comunali. Questa è la ripartizione. Alla provincia dell'Aquila 368 mila euro, alla provincia di Pescara 624 mila euro, alla provincia di Teramo 464 mila euro e alla provincia di Chieti 682 mila euro per un ammontare totale di oltre 2 milioni e 100 mila euro. Andiamo avanti. Sempre la Giunta regionale ha approvato un progetto di riqualificazione dell'aeroporto d'Abruzzo per un ammontare complessivo di 8,3 milioni di euro. In particolare si tratta del completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione di passeggeri e merci in porto in questo caso di 3,9 milioni di euro. E poi l'altra linea, quella della riqualificazione Arian Landside in porto del finanziamento di 4,4 milioni di euro. E una potenziale emergenza sociale, quella che rischia di dover affrontare il comune dell'Aquila. 50 nuclei familiari dovranno abbandonare le new town della frazione aquiliana di Arischia a causa della pericolosità dei balconi. Ma per l'ente sarà difficile ricollocarli se prima non salderanno i debiti relativi alle bollette delle utenze non saldate e per le quali risultano ancora morosi. È una doppia beffa quella in cui potrebbero incappare i residenti dagli alloggi antisismici della frazione aquiliana di Arischia. Secondo quanto appreso, infatti, per circa 50 famiglie si profilla all'orizzonte l'ipotesi di un doppio sfratto. I nuclei, infatti, rientrano nel provvedimento di sgombero firmato a novembre dal sindaco Cialente a causa della pericolosità dei balconi delle new town. Risultati difettosi a seguito dei controlli tecnici. Ricordiamo che sulla vicenda dei balconi la magistratura aquilana ha aperto anche un fascicolo d'inchiesta. Le famiglie di Arischia, però, rischiano di dover fare i conti anche con un altro problema, ovvero quello dell'amorosità delle bollette delle utenze non saldate. Se non dovessero riuscire a saldare il debito, infatti, per il comune non sarebbe possibile ospitarli in altri alloggi. Lo ha spiegato a Chiarelettere anche il sindaco Cialente parlando di scelta obbligata alla luce anche dell'inchiesta della Corte dei Conti per i mancati introite nelle casse comunali per le bollette e la vicenda, ancora tutta aperta da chiarire, della transazione da 9 milioni di euro con Enel Energia, il cui credito è stato ceduto alla società Banca Sistema. Per coloro che invece sono in regola con i versamenti, la soluzione è già stata individuata. Saranno ospitati nelle map, ovvero le casette in legno, realizzate proprio nella fazione di Arischia, in attesa che gli alloggi del progetto case vengano riparati. In alcuni casi, addirittura, i balconi dovranno essere rimossi. Una nuova grana, insomma, per i cittadini che da sei anni aspettano di rientrare nelle proprie abitazioni e, al tempo stesso, per l'amministrazione comunale, che dovrà fare i conti, probabilmente, con una nuova emergenza sociale, oltre che abitativa. La cronaca si era introdotto in un appartamento nei pressi di Villa Gioia, quartiera dell'Aquila, ma è stato notato da un cittadino che ha allertato le forze dell'ordine, le quali lo hanno arrestato mentre era ancora all'interno della casa. In Manette, un cittadino romeno di 43 anni. Vediamo. Furto aggravato è l'accusa per la quale è stato arrestato ieri sera un cittadino romeno di 43 anni, sorpreso a rubare in un'abitazione di Villa Gioia, nei pressi della sede del Consiglio Comunale dell'Aquila, rese inagibile dal sisma. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volante della questura dell'Aquila, guidati dal dirigente Nicola Di Pasquale. A segnalare l'uomo alle forze dell'ordine è stato un cittadino che ha notato la presenza nella casa di proprietà di un familiare. L'uomo, forzando con degli arnesi da scasso, era riuscito ad entrare nell'abitazione, ma grazie alla segnalazione la polizia è riuscita prontamente a bloccare la fuga del romeno, che è stato arrestato per furto aggravato essenziale, dice la polizia, alla collaborazione dei cittadini, utilissima per sventare i furti e collaborare con le forze dell'ordine. In un arco temporale di due anni avrebbe rubato all'azienda in cui lavorava circa 450 mila euro. Una accusa che è costata ad una dipendente di un'impresa di Giulianova l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di furto e con il Gup Giovanni De Rensis, che nei giorni scorsi ha accolto la richiesta di sequestro sui conti della donna avanzata dal PM Andrea De Feis per un importo di 250 mila euro. Il caso era scoppiato alcuni mesi fa quando il commercialista, nominato per relazionare sui conti dell'azienda, che nel frattempo era finita in amministrazione controllata, si era accorto di un ammanco sui conti dell'impresa di 450 mila euro. A quel punto era scattata la denuncia querela con i sospetti dei titolari dell'azienda immediatamente caduti su quella dipendente che lavorava in amministrazione. Tutela e legalità per una nuova esecuzione penale. Su questo tema si è svolto a Pescara un convegno che ha visto partecipare uomini e donne del panorama nazionale impegnati nella difesa dei diritti dei detenuti e sulle nuove politiche di reinserimento nella società. La situazione delle carceri in Abruzzo e Molise Pescara ospita un convegno per offrire riflessioni e proposte su una condizione di vita che in passato, come oggi, ha fatto e fa discutere tra chi chiede la certezza della pena a chi invece promuova il reinserimento del recluso limitandola a permanenza passiva. In Italia poi una delle difficoltà più grandi è stata quella del sovraffollamento. La certezza della pena è senz'altro un valore nel senso che le pene non devono essere discrezionali però dobbiamo capirci, certezza non vuol dire fissità delle pene, anzi vuol dire fare in modo che la persona ritorni al contesto sociale diversa da come è entrata e questo è quello che poi dà più sicurezza ai cittadini quindi fare e proporre misure alternative proporre un percorso che dalla secca detenzione porti via via un graduale reinserimento è un pezzo della certezza della pena. Dobbiamo invece ora investire sulla qualità della giornata detentiva sulla qualità della detenzione chiedendo anche molta più responsabilizzazione dei detenuti smettendo diciamo di pensarli come dei soggetti che devono solo ricevere ma anche dei soggetti che devono aiutare a costruire il proprio percorso. Bisogna evitare che il carcere sia solo un luogo in cui si scontano delle responsabilità cosa che è vera e che non bisogna dimenticare bisogna altresì cercare di evitare che quanti escano dal carcere poi il giorno dopo, l'ora successiva commettano reati perché questo significerebbe sostanzialmente un fallimento e significerebbe riproporre un problema alla società che invece diciamo vorrebbe evitarselo. Il CERT dell'Asle di Pescara apre le porte alle persone affette da ludopatia questa mattina sono stati esposti gli ultimi dati sul gioco d'azzardo e le iniziative per contrastarlo. Come ha detto lei durante la conferenza stampa il gioco c'è sempre stato perché oggi è diventato patologico? La malattia evidentemente è stata alimentata dalla diffusione capillare delle opportunità di gioco e soprattutto dalla istantaneità del risultato del gioco questo è sicuramente pensate che il gioco online le persone possono giocare tramite il telefonino o un computer da casa a notte e giorno continuamente oltre che a tutte le sale gioco che conosciamo il problema qual è? Il gioco esiste il gioco è diviso tra il gioco ricreativo e il gioco patologico quando è che noi entriamo in quella sfera del gioco patologico? Quando non abbiamo più la possibilità di controllarlo il gioco con un abbassamento sensibile è una riduzione della capacità di controllo degli impulsi questo accade e quindi noi abbiamo la ASLE di Pescara ha istituito questo servizio presso il CERT e diamo risposte a tantissime persone è in forte aumento i dati sono in aumento rispetto all'anno scorso di circa il 30% c'è anche un forte aumento da parte delle donne che hanno trovato il coraggio di venire fuori e di prendere coscienza della propria condizione questo è un dato più generale Pescara, l'Abruzzo purtroppo è ai primi posti come giocate a livello nazionale e insomma c'è bisogno sicuramente di un grande lavoro di prevenzione la ASLE di Pescara sta implementando questo servizio con altre figure professionali proprio per poter dare una risposta concreta a questa emergenza la cosa che vogliamo dire è che a tutte le famiglie che vivono questo dramma all'interno delle quattro mura non sanno dove rivolgersi esiste questo servizio è assolutamente gratuito basta telefonare al CERT presso la ASLE di Pescara e prenotarsi per una visita una studentessa di 17 anni di religione musulmana interpreterà la Madonna nella rappresentazione del presepe vivente organizzata dall'istituto Aterno Mantone di Pescara alla quale parteciperanno circa 200 alunni di 7 istituti comprensivi del capoluogo e di Cepagatti il presepe vivente avrà luogo il prossimo 18 dicembre alle ore 17.30 nei dintorni del piazzale della Madonnina nei prezzi del Molo Nord di Pescara tra i figuranti nel ruolo dei Re Magi il sindaco di Pescara Marco Alessandrini il presidente della provincia Antonio Di Marco e il comandante della direzione marittima della Guardia Costiera Enrico Moretti che si muoveranno a cavallo si intitola Le Radici del Futuro e si tratta di un evento dedicato alla storia della città di Pescara attraverso un percorso visivo e narrativo che aprirà i battenti all'Aurum dal 10 e fino al 19 dicembre 2000 anni di storia delle città senza rughe tra percorsi fotografici, espositivi, proiezioni di video storici, conferenze e reading il tutto ospitato in una delle cornici simbolo di Pescara all'Aurum dal 10 al 19 dicembre vogliamo creare un evento grande un coagulo delle cose più belle legate alla storia di questa città l'evento più grande dedicato alla storia, tradizione e anche alla vita di questa città affinché chiunque viva qui può sentirsi fiero di una storia davvero lunga, importante, ricca, robusta quindi offriremo non una marcorda o un elemento nostalgico ma un viaggio completo, interattivo attraverso tantissimi aspetti della storia di questa città fatta attraverso grazie anche ai protagonisti, alle associazioni, alle istituzioni che di storia si occupano quindi è un'esperienza piena, completa attraverso aspetti divertenti, importanti anche molti inediti di questa nostra città Proprio sulla proposta narrativa fatta di diverse forme comunicative che spaziano dalle più classiche a quelle più tecnologiche si evince la pluralità di pubblico al quale si rivolge l'amministrazione comunale Sicuramente il primo sono i cittadini più giovani di questa città che bene capiscono quanto è forte e interessante la storia del posto in cui vivono ma poi un po' a tutti, agli altri cittadini anche perché no, a chi è fuori da questa città e magari vuole conoscerla un po' di più per iniziare ad amare anche di più E' una stagione concertistica ricca di eventi quella del Colibri Ensemble scopriamola insieme nel prossimo servizio Partita la stagione concertistica del Colibri Ensemble siamo con il direttore artistico Andrea Gallo per parlare proprio di questi eventi Sì, abbiamo iniziato la nostra stagione a novembre all'auditore di un flaiano ospitando due importanti musicisti Daniele Russioni e Francesca Dego abbiamo poi proseguito con il primo dei nostri concerti da camera il trio Bettinelli e ci apprezziamo ora a dicembre a effettuare il nostro classico evento natalizio presso l'Aurum ospitando un quartetto di contrabbassi veramente eccezionale Vogliamo un attimo parlare dei vostri eventi e proprio cos'è il Colibri Ensemble Il Colibri Ensemble è un'orchestra da camera che riesce a spaziare da un organico appunto quasi cameristico di circa 10 elementi 10-15 elementi fino a raggiungere anche 40-50 elementi come abbiamo fatto nel concerto di apertura Prende spunto da una favola per bambini che è la favola del Colibri che appunto vede nella partecipazione proprio l'ideale propulsivo per raggiungere grandi risultati Per chi volesse saperne di più per chi volesse partecipare ai vostri eventi vogliamo dare qualche riferimento? Sì, è tutto scritto sia sul nostro sito che www.colibrienssemble.it sia anche sui social sulla pagina Facebook o l'account Twitter che abbiamo Il 13 dicembre torna a Pescara per la 33esima edizione il Festival sui pattini Torna anche quest'anno il Festival sui pattini e non solo giunto alla 33esima edizione Eh sì, sono passati un po' di anni ma siamo sempre qua per fortuna riusciamo a proporre uno spettacolo spero di gradimento al pubblico comunque agli appassionati sicuramente agli appassionati di fattinaggio artistico e non solo perché comunque comprende da un po' di anni anche forme d'arte come la musica come cantanti che abbiamo avuto Piero Mazzucchetti o come quest'anno vabbè ci sarà la scuola di ballo di danza classica del maestro Cupelli Appuntamento il 13 dicembre alle 18.30 al Palazzo San Nicolò a San Nicolò a Tordino e gli ospiti ricordiamo della serata? Gli ospiti saranno la campionessa del mondo Deborah Sbey i campioni del mondo della specialità coppia danza Elena Leoni e Alessandro Spigai lo stesso Alessandro Spigai si esibirà da solo perché è anche campione del mondo di solo dance una coppia di giovanissimi colombiani che si è classificata quarta al campionato del mondo nella specialità coppia artistico e tanti ragazzi del gruppo sportivo Prutino Ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo chiaramente di serie B è andata male alla Virtus Lanciano che nel tardo pomeriggio di oggi è stata battuta 3 a 1 al Biondi dal Cagliari ma vediamo tutti i risultati di una giornata che si è completata con le quattro partite odierne tra cui quella del Biondi le partite di oggi sono state Como Crotone 0 a 1 con la vittoria maturata nel finale firmata Budimir per il Crotone che dunque resta in vetta come vedremo tra poco Livorno-Sanitana 0 a 0 poi c'è stata come detto la sconfitta casalinga della Virtus Lanciano contro il Cagliari per 1 a 3 e la vittoria dello Spezia sul Vicenza 1 a 0 vittoria firmata a Ciurria e la prima vittoria in campionato della gestione di Carlo che ha già invertito in parte la rotta lo aveva fatto sabato scorso col pareggio in rimonta a Pescara e ora ha trovato il primo squilling in campionato dopo aver vinto la gara di Coppa Italia precedentemente con la Salernitana per 2 a 0 la classifica come detto il Crotone resta in vetta 37 punti respinge il controsorpasso tentato dal Cagliari che va a 36 ma Crotone e Cagliari si staccano dal terzo opposto dove c'è il Bari a quota 32 dunque la squadra di Nicola ha 4 lunghezze da recuperare sul Cagliari e 5 sul Crotone notizia di giornata punto di penalizzazione per il Cesena che dunque scende a quota 27 punto di penalizzazione combinato dal Tribunale federale per il mancato rispetto di requisiti patrimoniali ai fini dell'iscrizione all'attuale campionato la Virtus Lanciano sconfitta resta penultima vede allontanarsi le squadre che le sono vicino in particolare Ascoli Salernitana e Modena il Como dopo un'altra buona partita subisce un'altra sconfitta resta a meno 4 dunque della Virtus Lanciano chiudendo a quota 10 punti è il momento di vedere le immagini della sconfitta dunque della Virtus Lanciano contro il Cagliari ecco qui le immagini che partono con la Virtus Lanciano che aveva tante assenze Bacinovic a Menta Ferrari di Cecco Mammarella dunque in difesa c'è Di Matteo terzino sinistro ancora regione centrale a centrocampo Bastola Paghera e Crecco in attacco c'è Di Francesco e non Marilungo a comporre il tridente con Piccolo e Padovan nel Cagliari ampio turnover da parte di Rastelli con Cerri Lex di turno e Giannetti in attacco Farias a supporto Teio a centrocampo Barreca Balzano e Salamon le novità nel settore difensivo qui c'è un retropassaggio di Barreca per Storari un retropassaggio che viene giudicato volontario quindi c'è una punizione a due che Piccolo tira sulla barriera e al tredicesimo c'è già il vantaggio del Cagliari il cross di Farias Pucino scavalcato sul secondo palo Teio si coordina splendidamente gran rovesciata non ha da fare per Casadei gran gol di Teio sull'assist di Farias dunque partita difficile per la Virtus che va ancora più in salita per via di questo gol dopo 13 minuti di gioco gran gol di Teio poi ancora Farias scatenato percussione centrale dribbling e poi un tiro un po' strozzato che Casadei riesce a respingere rivediamo salta qui l'anti Farias conclusione respinta da Casadei poi la Virtus che ci prova con l'azione di Padovan il suo dribbling la sua sterzata poi il tiro di Di Francesco che viene contrato da Salamon ecco qui Federico Di Francesco novità di questa serata ma poi arriva il raddoppio del Cagliari il minuto il 34esimo il colpo di testa del polacco ex pescara Bartosz Salamon il cross di Di Gennaro pennellato con il sinistro torsione vincente del difensore al primo gol in maglia cagliaritana siamo nella ripresa la Virtus Lanciano comunque non demorde anche se il primo tempo non è stato granché tiro dalla distanza tentato da Luca Di Matteo la parata di Storari poi il gol della Virtus Lanciano il gol che riaccende le speranze della Virtus minuto 61 schema lo vedete Paghera Puccino e poi il sinistro di Piccolo sorpreso Storari che aveva piazzato solo tre uomini in barriera neanche il tempo di sperare nella rimonta che il Cagliari però chiude il discorso ancora Farias a fare affette la difesa della Virtus arriva sul fondo a ridosso dell'area piccola facile facile il tocco sottoporta di Alberto Cerri il grande ex proprio al Lanciano proprio al Biondi segna il suo primo gol con la maglia del Cagliari esulta e suscita la stizza dei tifosi di casa ma poi dirà nel dopo partita ci teremo tanto il mio primo gol in maglia Cagliaritana non segnavo da tanto tempo e non è stata una esultanza priva di riguardo verso la Virtus Lanciano era la grande voglia di segnare punizione di Lanini che ha fatto molto bene quando è entrato in campo le spinge Storari poi Marilungo preceduto forse con un intervento falloso rivediamo la parata di Storari sulla punizione di Lanini e poi un intervento ai danni di Marilungo la Virtus chiude in dieci uomini per questo intervento scomposto da parte di Matteo su Giannetti cartellino rosso per l'ex Terramano che si fa male e poi quando si rialza deve subire la decisione disciplinare del direttore di gara espulso dunque Luca Di Matteo che sarà squalificato per il match di Avellino di sabato prossimo poi ancora un tentativo di Cerri dal limite dell'area palla sopra la traversa arriva il fischio finale dunque la Virtus Lanciano soccombe al Biondi contro il Cagliari per 3 a 1 e andiamo ad ascoltare le parole pronunciate nell'immediato dopo gara dal tecnico rosso-nero Roberto D'Aversa non si può dire che abbiamo fatto tutto al massimo di quello che potevamo sotto l'aspetto dell'impegno sicuramente è chiaro che qualche errorino l'abbiamo commesso però devo dire che la squadra comunque è stata viva per l'arco di tutta la partita nonostante di fronte avessimo un'ottima squadra una squadra forte anche quando siamo rimasti in dieci comunque ha cercato comunque di infastidire il Cagliari e bisogna guardare in questo momento lo so che una posizione di classifica non ci fa star sereni però per quanto riguarda me devo guardare un aspetto positivo che comunque la squadra è viva e dispiace perché è la prima sconfitta casalinga anche se viene contro il Cagliari c'è da maturare però sotto l'aspetto delle prestazioni fuori casa perché se non maturiamo è difficile raggiungere il nostro obiettivo se andiamo a analizzare un po' la partita lì abbiamo preso la circostanza del gol dove eravamo tutti dietro la linea della palla e siamo stati un po' ingenui sul due contro due che si è creato in fascia e sulla situazione del cross il giocatore era solo però poi diamo bravura anche merito al giocatore che ha fatto un bellissimo gol è chiaro che lì invece dopo il secondo tempo siamo stati più aggressivi siamo andati alla ricerca un po' più alti li abbiamo messi in difficoltà però è impensabile contro il Cagliari deve fare una pressione così spudorata per 95 minuti probabilmente avrebbe preferito da Versa affrontare il Cagliari con qualche scelta in più ma io credo che i ragazzi che hanno giocato hanno fatto il massimo è chiaro che mancavano dei giocatori importanti però devo dire che quelli che li hanno sostituiti vanno fatto bene il pensiero deve essere sempre quello propositivo è positivo in questo momento sinceramente non me la sento di stare a dare delle colpe o a mortificare questi ragazzi perché sotto l'aspetto dell'impegno in questo momento stanno andando tutto è chiaro ripeto che siamo commettendo a volte commettiamo degli errori però bisogna sempre rimanere equilibrati la strada è ancora lunga siamo inciampati in una sconfitta pesante a Novara dove fino a 75esimo la partita era in pugno però il mio dispiacere è più i 20 minuti 25-30 minuti del primo tempo lì dove eravamo in supera numerica ecco lì dobbiamo maturare perché lì dove l'avversario è in difficoltà dobbiamo cercare di approfittare ed ora parliamo di Pescara Pescara reduce dalla sconfitta di ieri contro il Brescia per 2 a 0 tanta amarezza anche nelle parole dell'attaccante Marco Sansovini nel secondo tempo avete fatto di tutto per ribaltare questo risultato non era facile no no non era facile però intanto complimenti al Brescia e sicuramente abbiamo avuto i nostri demeriti li analizzeremo capiremo quello che dobbiamo fare tramite il lavoro della settimana dobbiamo ripartire però io credo che poi non è tanto un problema tecnico perché abbiamo dimostrato di poter fare grandissime partite grandissime prestazioni ci vuole qualcosa in più in Serie B ci vuole qualcosa in più questa squadra quando si propone attacca bene poi quando deve saper gestire facciamo il discorso con Oddo quello che oggi il Brescia ha fatto contro il Pescara dovevate farlo per esempio contro lo Spezia manca questo aspetto ormai è una partita andata per dire in Serie B servono tutte le componenti certo componente di sangue di gattiveria di di saper stare in campo da squadra di Serie B quello credo che è quello che un pochino viene meno il nostro piccolo grande difetto è quello lì dobbiamo calarci un pochino più in questa realtà questo sembrava il momento più facile visti gli avversari invece la B è tutt'altra cosa no no io lo sapevo che questo era il momento più difficile altro che quindi io vi posso dire che dentro lo spogliatoio che ci crediate o no abbiamo una voglia di scendere in campo sabato incredibile veramente arriva un'altra squadra in forma arriva un'altra squadra in forma guidata bene con giocatori molto validi giocatori di categoria prepareremo la partita al meglio non vediamo l'ora di giocare poi sarà ancora più bello vincere perché significa che che a quel punto il gruppo avrà dato risposte importanti ed ora scendiamo in Lega Pro ci sono le disegnazioni arbitrali per la prossima giornata la quindicesima impegni casalinghi per le abruzzesi l'Aquila l'Aquila al fattore riceverà il Rimini partita che sarà diretta da Giovanni Luciano di Lamezia Terme assistenti Giuliani di Teramo e Ragnacci di Gubbio al Bonolis si giocherà Teramo Pistoiese dirigerà l'incontro Alessandro Pietropaolo di Modena assistenti Macaddino di Rimini e Mazzei di Brindisi ed ora ascoltiamo il centrocampista del Teramo Stefano Amadio sul difficile momento che parla del difficile momento dei Biancorossi ma è un momento difficile sicuramente bisogna rimboccarsi le maniche pensare solo al campo cercare di allenarsi a testa bassa e reagire il problema nostro evidente è che fuori casa stiamo facendo male e approcciamo le partite un po' così pure i primi 20 minuti di Lucca insomma non erano andati benissimo ci hanno messo lì poi fortunatamente avevamo fatto call quindi bisognava comunque cercare di mantenere il risultato o quantomeno quando vai sotto provare a riprenderla e come all'Aquila è mancata la reazione e questo non può andare bene il campionato è equilibrato e le partite te le devi giocare tutte alla morte perché comunque è molto livellato e non è facile fare il risultato contro nessuno è chiaro che questi scontri retti vanno affrontati in maniera diversa soprattutto fuori casa e vanno giocati alla morte perché ormai i punti sono quelli che sono e a noi ci servono come il pane in casa approcciamo le partite meglio secondo me siamo più combattivi e cerchiamo di imporre il nostro gioco penso che quello che ci manca appunto è la mentalità fuori casa che è evidente comunque iniziando non mi aspettavo di di stare in questo in questo posto in classifica perché so benissimo le capacità di questa squadra del mister e la differenza con l'altro anno è troppo lampante mi dispiace insomma il mister penso è imprescindibile per risalire la classifica e l'altro anno ha fatto la differenza perché con poche settimane ci ha insegnato come giocare con un modulo totalmente nuovo e penso che anche quest'anno sarà decisivo appunto per risalire la classifica ed ora la serie D nel pomeriggio si è giocato l'incontro di recupero della quattordicesima giornata del girone F tra Chieti e Folgore Veregra partita che non si giocò due domeniche fa per l'inagibilità dello stadio Angelini dopo il temporale dopo le forti piogge che hanno reso indisponibile l'impianto teatino ebbene il Chieti ha battuto la Folgore Veregra 3 a 2 vediamo la classifica come cambia per la squadra di Donato Ronci che in un colpo solo scavalca Avezzano Monticelli e Jesina e aggancia al quinto posto proprio gli avversari di giornata ovvero la Folgore Veregra e Lisernia e si porta a un punto dal quarto posto dove c'è il San Nicolò è stata una partita combattuta ricca di gol che il Chieti ha vinto con un grande secondo tempo nel quale peraltro ha fatto il debutto il giocatore Nicola Fiore tornato a Chieti nelle ultime ore Al termine di una gara emozionante ricca di gol il Chieti fa suo il recupero con la Folgore Veregra per 3 a 2 agganciando così al quinto posto proprio gli avversari di giornata gran secondo tempo per i Nero Verdi contro un avversario che non ha colto le difficoltà dei teatini nella prima frazione il tecnico di Casa Ronci dà fiducia al 3-4-3 Dos Santos affiancato da Varone e Bocchino e Wansiha e Massimo in mediana in panchina Fiore tesserato nelle ultime ore per lui un ritorno 4-3-3 per l'undici Veregrenze con il tridente pedalino Padovani Naziconi avvio shock però per il Chieti che dopo 4 minuti è già sotto sugli sviluppi di un corner Fatone manca la presa Padovani ne approfitta e calcia Vitale salva sulla linea con l'aiuto del Paloma nulla può sul tapin in rovesciata di Gentile Folgore avanti 0-1 al decimo ci prova anche il bomber pedalino con un destro deviato in corner della difesa il primo guizzo nero verde targato Varone al minuto 14 destro potente ma alto il Chieti è in difficoltà squadra slegata in confusione dopo la mezz'ora Fatone spaventa il pubblico dell'Angelini poi si riscatta al 32esimo quando alza sopra la traversa il tiro potente di Traini la Folgore però non ha l'istinto del killer e al 38esimo manca clamorosamente il raddoppio con Padovani che getta le stelle l'assist dalla destra di Calvarese una delle leggi più spietate del calcio allora si materializza un minuto dopo ed Ivan Varone tira fuori dal cilindro un autentico gioiello destro a giro che fulmina Marani 1-1 con il quinto centro dell'ex giocatore di San Marino e Savona finale di tempo nervoso dopo la punizione di Naziconi il tecnico di casa Ronci viene allontanato dalla panchina dal direttore di gara 5 di Pistoia nella ripresa il Lecchietti cambia Piglio e al secondo minuto Dos Santos doppia in velocità Arcolai ma Marani salva in uscita dodicesimo tocca a Fiore in campo al posto di Zanetti e per l'esterno Vastese è un ritorno scintillante intanto per un soffio non arriva sull'invito di Dos Santos la spinta del Chietti si fa sempre più forte anche se il neo entrato Mandorlini semina il panico in area nero-verde ma al ventesimo arriva il sorpasso del Chietti con un giocatore della Folgore a terra Massimo piazza un filtrante per Dos Santos che dribbla Marani e insacca il 2-1 nono gol per il brasiliano con Corsa sotto la Volpi la partita si fa ancora più bella la squadra Veregrenze va vicino al pari due volte con Pedalino prima di testa poi il centroavanti si fa largo di forza ma Fatone si salva distinto sul capovolgimento di fronte Serpentina di Fiore che scheggia la base del palo al trentatresimo arriva il nuovo pari corner di Nazziconi Pedalino sovrasta sbardella e fa 2-2 Caparbi il centroavanti all'ottavo centro ma l'ultimo colpo di Regne è del Chietti al quarantunesimo Fiore inventa e mette Dos Santos davanti a Marani il brasiliano non sbaglia doppietta e rete partita il debutto di Fiore sarebbe ancora migliore se Marani non gli sbarrasse la strada al quarantacinquesimo finisce 3-2 e il Chietti si prepara nel migliore dei modi ad ospitare domenica la capolista San Benedettese termina qui questa terza edizione del TG6 vi ricordo la prima edizione di domani come sempre alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione